Domenica 4 agosto, San Giovanni Maria Viannì. È il 216esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 149 al termine. Il sole sorge alle 5.58 e tramonta alle 20.35. La luna si leva alle 9.53 e tramonta alle 22.49. Un decreto del Senato Veneto stabilisce un dazio delle 5%, detto quintello, su ogni legato o eredità. I proventi di questa vera e propria tassa di successione dovranno servire esclusivamente alla manutenzione della laguna di Venezia, la quale, a detta degli esperti del tempo, aveva bisogno di essere costantemente cavata senza aver rispetto a spesa. Ne sono esenti le eredità o i legati fra genitori, figli, fratelli, coniugi, avi, paterni e materni e nipoti ex-fratre. Le previsioni per domani. Spazi di sereno anche ampi, soprattutto in pianure nella prima parte della giornata, alternati ad annuvolamenti più probabili dalle ore centrali sulle zone montane dove saranno possibili locali rovesci o temporali. Temperature in aumento. A presto.